È un grande progetto di rigenerazione ultra urbana perché coinvolge la città di Milano, le stazioni di Cadona, le stazioni di Bovisa, coinvolge Saronno, coinvolge Gusto Assizio e soprattutto coinvolge una grande linea di comunicazione sulla quale ci sarà una delle più lunghe ciclovie della nostra regione con un sacco di verde e con una grande iniziativa che va nella direzione della sostenibilità. Quindi è una bellissima iniziativa, un'iniziativa che credo sia giusto far conoscere i cittadini anche perché è comuno di Gusto Assizio, come è stato molto bravo, è dire che sia che tutta l'amministrazione sono stati molto efficienti e hanno ottenuto una serie di finanziamenti che contribuiranno sicuramente a migliorare per l'inter la qualità di questa città.